buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale come va come state anche oggi notizie belle succulente di mercato e ci saranno degli sviluppi che cercherò di portarvi durante la giornata perché il mercato ripeto è sempre in continua evoluzione qualcosa può andare avanti qualcosa può tornare indietro e oggi parliamo di queste notizie qua avete visto bene nella copertina il buon keru che vuole conquistare la regina elisabetta nonché di maria e vuole riportarla a torino missione londra e di questo che parleremo ma non solo quindi mi raccomando ragazzi carichi iscrizioni al canale che dal 15 iniziamo poi con le live poi ci saranno gli abbonamenti le trasferte da pianificare c'è anche il nottingham che va valutato ecco come eventuale trasferta non mi dispiacerebbe ne parliamo proprio avanti allora ragazzoli torniamo a noi e parliamo di che cosa di calcio mercato ieri altre notizie interessanti succulente con tweet annessi dei grandi giornalisti sportivi che ogni giorno cercano di aggiornarci di portarci aggiornamenti e ce li abbiamo oggi abbiamo degli aggiornamenti sappiamo già che intanto oggi il buon cherubini sta in quel di londra e cercherà di portare a casa il contratto firmato di di maria che sarebbe già qualcosa come scrive il buon fabrizio romano ecco juventus in trattative avanzate con angel di maria da settimane scaloni tecnico dell'argentina ha dichiarato se la juve cerca un esterno beh angel è tra i migliori al mondo questo è ciò che dice il buon fabrizio romano trattative avanzate detta da romano significa una cosa siamo vicini sicuramente alle firme dove si gioca la partita sui dettagli molto probabilmente sulla durata del contratto oppure sull'ingaggio perché se l'intenzione di angel di maria è quella di rimanere un anno in europa per giocare ad altri livelli e poi tornare in argentina molto probabilmente la juventus vista e considerata che l'unica squadra che sopra il ragazzo gli offrirà un posto sicuramente centrale all'interno del progetto tecnico tattico di allegri del prossimo anno ma sicuramente non uno stipendio da 20 mila miliardi di euro ecco non da sette e mezzo magari un po e un pelo meno si cercherà di chiudere la trattativa sul fil di lana salvo ovviamente il giocatore non decida di stare un ulteriore anno la juventus può dare un ingaggio più alto approfittando del decreto crescita che vi ripeto il decreto crescita ha valore su qualcosa sull'ordo incide tanto sull'ordo circa il 50 per cento la tassazione che o nell'ordine delle banalizzazioni economiche possiamo dire che se uno prende cinque senza decreto crescita è 10 col decreto crescita magari è poco sopra i 7 ecco ma niente di che si risparmia un bel po ovviamente e quindi col decreto crescita con la permanenza di due anni di di maria ecco la juventus potrebbe sicuramente risparmiare qualcosina grazie al decreto crescita e questo è importante la partita si gioca credo qua ma alla fine in un modo o nell'altro cercheranno di ottenere la firma sta maledetta firma federì riporta la casa sta firma chiosa su di maria importante le sue dichiarazioni fanno capire una cosa fanno capire che lui ha voglia di fare un'altra stagione e basta poi chi vivrà vedrà ecco non ci resta che aspettare l'esito di questi incontri e armarci di santa pazienza perché io vedo tanta frenesia più da parte di chi ascolta il mercato che da parte invece di chi lo fa credo che invece quando certe situazioni siano già ben avviate poi servono dei tempi normali per fare tutte le cose per bene e poi alla fine si va verso la chiusura domani ripeto potrebbe arrivare già qualche novità lato angel di maria sono curioso un po di vedere l'esito però non dobbiamo parlare solamente delle cose belle che ci aggradano dobbiamo parlare anche delle notti dolenti del mercato e del mercato delle cessioni rome agresti che sempre portatori di belle notizie ma ogni tanto ne spara anche di brutte ahimè e questa è una di quelle notizie che io odio commentare ma che nel contesto va messa dentro perché possono esserci delle difficoltà nel mercato e qua le vediamo juve toro nei prossimi giorni parleranno di nei prossimi giorni parleranno di mandragola l'obbligo di riscatto non è scattato e granata sono a caccia di uno sconto quindi cairo col braccine da t-rex sta andando a bussare lì alla continassa con la testa perché con le braccia non ci arrivo a bussare giustamente boom 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 chi è sono cairo e vorrei uno sconto su mandragola questa è la dinamica dell'accaduto ecco e poi oltretutto oltre che chiedere lo sconto il buon t-rex dice piazza non lo acquisto non lo voglio acquistare non verrà acquistato per cui alla juve toccherà ovviamente trovare una soluzione per marco piazza che non è una cosa impossibile non è una missione veramente complicata visto e considerato che comunque il ragazzo precipisce un ingaggio abbastanza ridotto e basso e quindi vedremo un po come si sbolognerà questa situazione però questo è un dato che va riportato ecco vedete le difficoltà siamo sicuri che magari sistemando in prestito con diritti obblighi eccetera si arriva facilmente a delle soluzioni ecco sulle cessioni poi tac succede l'imponderabile c'è il t-rex di turno che viene a bussarti dice no signore grazie arrangiate tenete la merce è reso c'è su amazon e c'è anche sul calcio mercato e quindi ce ne facciamo assolutamente una ragione nico schila che ogni sera alla stessa ora un po come cenerentola con la sua zucca che a mezzanotte torna a essere zucca e non è più una carrozza meravigliosa riporta sempre sto tweet paul pogbato juventus e siamo agli attifinali ecco insomma pronto contratto fino al 2025 transfers e polpetto lì accanto come per rafforzare visivamente con dei colori e per dare un po di dinamismo a questa notizia con la clisidra ovviamente che sta a significare una cosa manca poco vedremo che cosa succederà fatto sta che tutti parlano di trattativa ben avviata con pogba pogba ha scelto la juve addirittura c'è qualcuno che si prodiga già a trovare il potenziale numero che potrebbe avere pogba sul su dietro le spalle stuttanti dicono il 10 prenderà e raccoglierà questa eredità lasciata da dibala contratto di tre anni vedremo 2025 contratto di tre anni un triennale ed è una cosa che abbiamo detto tutti è un ottima un ultimo compromesso a 29 anni fare un quinquennale sarebbe stato sicuramente una martellata in quel posto meglio tutelarci con un triennale poi arrivare eventualmente ad un eventuale rinnovo piano piano in base alle performance in base all'integrità fisica e a tanti altri parametri che probabilmente lo staff tecnico sa giudicare meglio di me che sto qua dietro su questa scrivania con questi occhiali che riflettono la luce dello schermo e niente quindi aspettiamo un attimo ma anche questa trattativa pare che stia andando verso la direzione giusta chiudiamo con l'ultima notizia che è molto interessante che non ci traccia non si tratta di juve eccetera tratta di chiellini cari amici di sorer chiellini andrà a giocare ai los angeles football club che oltretutto in mls sono anche i favoriti al titolo finale hanno una squadra veramente quei cosiddetti chiellini potrebbe volare a los angeles quindi nelle prossime settimane here we go amici di sorer io vi do un consiglio spassionato se la trovate a poco prezzo è una carta che può anche valere parlo ovviamente della rara può anche valervi qualcosa in termini di bonus eccetera tuttavia vi dico già che schiellini è una data di scadenza di scadenza sul culo poi rischiate che quella carta vi rimanga irrimediabilmente sul gloppone se invece vi serve a fare delle soglie e potete ammortizzare la spesa nel tempo beh potrebbe essere una scelta saggia questo consiglio sorer mercato chiellini ci ho messo dentro di tutto pogba di maria che altro mandragora piazza insomma sono queste le notizie di ieri sera quelle principali ecco detto questo che c'è da dire gli aspetto con ansia stare a starista queste soluzioni ecco le firme gli annunci eccetera ma ripeto anche tanta pazienza il mercato funziona così e mi ci sto abituato a fuori di raccontarlo mi sto adeguando a quelli che sono i ritmi che cambiano poi è da estate estate però ci sono trattative lampo ci sono trattative più lente il parametri zero prima li chiudevamo a novembre praticamente a gennaio febbraio novembre non si possono chiudere per gennaio febbraio si ora invece nell'epoca post co vide è cambiata un po la situazione e si va con molta calma avete visto perisic che andrà al tottenham ed è per questo che la divento sta valutando kustic ecco questo è un dettaglio che mi sono dimenticato di raccontarvi nel video di questa di ieri a pranzo ecco alle 13 e 30 insomma perisic valli al tottenham come parametro zero ed è per questo che la juve sta andando su kustic una soluzione abbastanza low cost e più o meno costa anche meno probabilmente e kustic tra ingaggio e costo del cartellino perché i costi ragazzi vanno valutati a livello annuale tra ammortamento più stipendio lordo questa somma definisce il costo di un giocatore un giocatore come kustic con un triennale costerebbe 5 milioni magari di ammortamento un ingaggio da 3 milioni netti a stagione con un decreto crescita sui 5 10 milioni totali perisic già di per sé costava 12 milioni circa con l'ingaggio lordo perché non potevamo usufruire del decreto crescita essendo comunque ragazzo già presente in italia e quindi non poteva avere quel tipo di di fiscalità agevolata poi io ci ho messo l'ammortamento del del insomma del costo del cartellino su kustic la c'è da capire anche i costi di commissione che saranno ben diversi per cui situazioni completamente differenti probabilmente kustic è una situazione low cost rispetto a pedisic anche qua per capire un pochettino entrare nel ragionamento economico di certe trattative signori questo è tutto ci vediamo alle 13 e 30 un abbraccio a voi grazie per avermi ascoltato fin qua vi auguro una buona giornata e sempre fino alla fine forza juve